Il blocco di Infante ancora per Ferguson che fince la penetrazione, scarica Infante per De Vico, il tiro di De Vico, meno uno Agropoli, Biela in attacco ora con la torre che va da De Vico e arriva fino al ferro e la stoppa. Gli altri tre quarti li ha vinti, quindi diciamo forse è ricaduto un po' negli errori che aveva commesso in precedenza. Si va a cercare De Vico, affrontato dalla Tavernari, prova a battere in penetrazione, subisce la stoppata di Trasoli, va a servire De Vico. Ancora De Vico che va vicino alla palla persa. Per l'Agropoli, per De Vico, da Ferguson, la penetrazione di Ferguson che scarica fuori per la torre, ancora fuori per De Vico, la tripla di De Vico, ancora Ferguson, ancora Le Serpentine, ancora De Vico fuori, la tripla di De Vico, di nuovo. Da Ferguson, si alza, finge la tripla, poi va in palleggio, va fuori da De Vico, che si prende la tripla, questa volta è corta. Per Ferguson, lo attaccherà perché di prambio ha tre falli, arresa il pareggio, De Vico, la tripla di De Vico, è lunga. L'errore di Biella secondo me è stato quello di metterla sul piano del nervosismo la partita e gli è costata gara. Ora De Vico esce per il tiro, nella tripla. La Biella insieme alla torre. Ha giocato anche lui una buona partita, soprattutto nel... Ancora venuto, palla dentro per De Vico, che si alza dalla media distanza e... ...di squadre, piuttosto dai una gomitata al compagno di squadra, ma quel rimbalzo lì non si può lasciare mai. E' fatta per la torre, mancano cinque secondi alla fine di questa azione. La torre va da De Vico, che si alza col tiro da tre, che nonostante la mazza. Palla per la torre, che va dentro da De Vico, che si alza con un tiro dal centro dell'aria, che hanno rimesso in partita Agropoli. La palla per De Vico, adesso che si alza col tiro da tre, che non va, rimbalzo. Altro blocco portato da Infante. Si vada a De Vico in angolo, che si alza col tiro da tre, che entra ed esce. Per Infante, ancora da Venuto, De Vico contro Tavernari, la palla 14-11. Infante, sempre per Ferguson, vada a De Vico contro Tavernari, sportellate. 35 pari, 16 secondi alla fine del quarto. De Vico, vediamo se va a fine in fondo, hanno un po' di nervosismo da entrambe le parti. Infante, Infante, De Vico contro Tavernari, ancora fuori per l'agropoli. Ancora Ferguson, con le sue finte e con i suoi palleggi. De Vico va da Sanders fuori, la tripla di San Antonio. Venuto e Santo Lamazza, ancora sportellate. Passaggio ora. Geric, da due. Ancora. Pizzichini, palla fuori per Roderick, Santo Lamazza. Viene raddoppiato molto bene da De Vico, che gli scipa il pallone. Da solo contro il canestro, palla dietro la schiena per Ferguson, che da sotto. La palla per De Vico, che prova la penetrazione e poi scarica per Granuto. Si va da De Vico, la palla dentro per la torta. Grazie Giorgia per le parole di Coscarrea. Riprende il match con la palla gestita da De Vico. La palla viene buttata da De Vico. Movimento di menudo e poi va dentro da De Vico. De Vico, spalla canestro, prova a girarsi. Il suo movimento buono, però non viene premiato dal canestro. Può ripartire. Ancora venuto. Palla dentro per De Vico, che non riesce a controllare. Con una palla persa, simile anche alle altre. Dall'altro lato Ferguson va a sbagliare. Il più facile dei canestri, il migliore. Il blocco di Banti. Il gioco a due con Banti. Ancora per Banti, che forse commette sfondamento. Non commette sfondamento. Ancora un rimbalzo. Ora Ferguson, il rimbalzo è stato di Infante. L'errore di Ferguson, il rimbalzo di De Vico. La palla per roll, che si crea lo spazio. Poco ritmo, il suo tiro non va. La lotta all'imbalzo. La squadra. Adesso si alza col tiro da 3, che non va. Rimbalzo controllato da De Vico, che va a realizzare. Sono due tiri liberi. Ferguson si alza da 3, il suo tiro non va. L'otta all'imbalzo, che premia Agropoli. Però il pallone viene. Ferguson, sbagliato. Il rimbalzo è di Roderick. Va da Trasolini per Di Prampto. Lungo al riposo lungo. Ancora Santo Lamazza. Ha ricevuto il carenza in post basso. Carenza addirittura a giocare. Carenza per Di Prampto. Per Trasolini contro De Vico questa volta. Ancora Trasolini. Ancora fuori da Sanders. Il tiro di Sanders. L'errore di Sanders. Il rimbalzo di Tavernare. Corre per Di Prampero. Che va da... I tagli, i blocchi. Carenza ora contro De Vico in post basso. Sigi Ferguson. Gran partita la sua. Trasolini che va fino in fondo. Da quest'altro lato per... Tendendo il movimento dei compagni. Dando a servire Tavernari. Pallanetto per Trasolini che da sotto sbaglia il tiro. Il rimbalzo dello stesso Trasolini. Movimento Spizzichini. La palla per Trasolini che si muove molto bene sulla linea di fondo. E va subito. Cato da Agropoli con Roderick che può far partire il contropiede. La palla sotto per Tavernari che non va a segno. Sanders rimessa per Tavernari. Trasolini ancora Tavernari. Gioco a due. La schiacciata. 2.50. La fine del primo atto. Di Prampero ha ricevuto da Roderick in punta. Per Tavernari che va a trovare ancora una volta... Qui è il dottore Odori Scausa. Anche direi Nicolò De Vico che adesso... Questo non è... Odori De Vico. Ancora per Santo Lamazza. Per Carenza. Per Tavernari. Arresto di Da Mazza. Chiede il blocco di De Paoli. Va Santo Lamazza. Va da Di Prampero che deve tirare. Va da De Paoli. Un rimbalzo questa volta d'attacco dell'Agropoli con Di Prampero. Per Tavernari che si alza per la tripla e la mette. Di Prampero. Ha ricevuto Santo Lamazza. Ancora Santo Lamazza. Va da Tavernari. Ancora la prima di Tavernari. Sette minuti. Cinque punti di vantaggio per l'Agropoli. Santo Lamazza. Ancora per Tavernari che... Terza tripla di serata di Giazmar Ferguson. Dall'altra parte Santo Lamazza con tanto spazio. Finisce 140 a 138 per l'Est. Che va a cercare Spizzichini. La palla per Santo Lamazza. Circolazione perfetta che va a trovare in angolo. Si va fuori da Spizzichini. Che mette giù il pallone. Bravissimo in aiuto De Vico. Fuori da Carenza. In post passo riceve Roderick. Ancora Roderick per Tavernari. Il tiro di Tavernari. Ancora errore. Rimbalzo in attacco di Trasolini. Che va a poi. Cinque punti. Il nuovo acquisto del Piela. Che ha sostituito praticamente infortunato. è Ferguson, Tavernari. In transizione. L'errore di Tavernari. La palla recuperata da De Vico. Da Santo Lamazza. Ancora il palleggio Roderick. Ancora va a penetrare da fuori per Trasolini. La tripla di Trasolini è corta. Il rimbalzo è di... Adesso c'è il tiro provato da Agropoli. Che va a sbagliare con Spizzichini. Perché non c'è rimbalzo. Sei avanti di tre.